La polizia di Pistoia ha identificato e denunciato alle competenti procure della Repubblica del Tribunale Ordinario e del Tribunale per i Minorenni di Firenze quattro giovani stranieri di cui uno minorenne ritenuti responsabili dell'aggressione ai danni di cinque ragazzi avvenuta nel centro storico di Pistoia la sera di venerdì scorso. Alle 20.50 circa del 26 febbraio due volanti sono intervenute in via Buozi dove era stata segnalata l'aggressione ai danni di alcuni giovani compiuta da coetanei a loro sconosciuti. Secondo la ricostruzione della polizia cinque giovani all'incrocio tra piazza San Francesco d'Assisi e via Buozi sarebbero stati avvicinati da quattro ragazzi con la scusa di chiedere una sigaretta. Al loro rifiuto i quattro avrebbero iniziato a minacciarli anche con una bottiglia che uno di loro teneva in mano. Mentre i ragazzi cercavano di allontanarsi i quattro aggressori li avrebbero inseguiti e colpiti con calci e pugni. Una delle vittime sarebbe stata rapinata di una banconota da 5 euro. Una delle cinque vittime ha fatto ricorso a cure mediche per un labbro rotto giudicato guaribile in cinque giorni. Durante l'aggressione ripresa con il telefono cellulare da uno degli autori, fanno sapere gli investigatori, sarebbero state proferite anche frasi offensive rivolte alle vittime. E in particolare uno degli aggressori avrebbe detto ai cinque ragazzi adesso vi picchiamo così imparate a dare noia agli stranieri. Il cellulare utilizzato per le riprese è stato sequestrato. Allo Stato non risulta che il filmato sia stato divulgato in rete, anche se non si può escludere visto il tempo trascorso tra le riprese ed il sequestro del telefonino.